La CGL ha chiesto al sindaco di Gela Lucio Greco un incontro con la SRR Sud per discutere del bando finalizzato all'assunzione degli operatori ecologici che dovranno essere impiegati nella zona sud della provincia. Lo ha comunicato il coordinatore del settore igiene ambientale FP CGL Paolo Anzaldi che nel sottolineare la disponibilità del sindaco di Gela preoccupato per il futuro dei lavoratori ha spiegato Sono mesi che chiediamo un incontro con la SRR Sud per definire le questioni più critiche e hanno sì risposto con email dai contenuti rassicuranti ma che non ci convincono assolutamente. Purtroppo le parole non ci rassicurano e pretendiamo che siano i fatti a parlare a garanzia dei lavoratori. Riteniamo che il tempo giochi a sfavore dei lavoratori e non possiamo permettere di perdere altro tempo e arrivare al momento in cui il servizio deve essere svolto e l'urgenza e l'esigenza si impongano a scapito dei lavoratori. Confidiamo, ha concluso Anzaldi, in una fattiva collaborazione e aspichiamo anche la presenza dei sindaci soggi visto che anche l'attuale presidente della SRR Sud sembra finalmente accorgersi dell'emergenza occupazionale e riteniamo inoltre di dover affermare che la questione delle assunzioni è un tema assolutamente prioritario che i sindaci dei comuni interessati devono affrontare.